23. Demostene Demostene, 384-322 a.C. Figlio di Demostene del Demo di Peania, politico, oratore, ateniese, avversario di Filippo II di Macedonia, uno dei più grandi oratori attici, in prima filippica, dice «I beni di coloro che non ne prendono cura diventano di proprietà di coloro che sono pronti a faticare e a correre dei pericoli, e i beni degli assenti appartengono per natura ai presenti». Commento «Quelli che non hanno cura dei loro beni spesso iniziano a vivere spiritualmente». Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.